Ciao a tutti, oggi vi mostriamo la nostra ricetta di crema per dolci e torte fatta senza usare le uova nella versione alla vaniglia e al cioccolato. Nel frattempo che parte la musica iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella portiamo in un pentolino 500 ml di latte a parte versiamo in un contenitore 250 g di zucchero semolato e 75 g di amido di riso setacciato a parte versiamo in un contenitore versiamo un poco di latte nel contenitore e mischiamo bene con una fosta a mano a parte versiamo in un contenitore e usiamo in un contenitore e usiamo in un contenitore Quando il composto è uniforme portiamo tutto nel pentolino in questo modo avremo evitato la formazione di eventuali grumi portiamo a ebollizione su fiamma media e lasciamo bollire due minuti mischiando vigorosamente e senza soste dopo aver spento la fiamma aggiungiamo una bustina di vaniglina o altro aroma di vaniglia a 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 insieme al cioccolato setacciamo 60 grammi di cacao amaro incorporiamo il cacao nella crema alla vaniglia ancora calda e poi la lasciamo raffreddare sempre ricoperta da pellicola trasparente conserviamo in frigorifero la crema raffreddata e la consumiamo entro 2-3 giorni a se questo video vi è piaciuto vi chiediamo di cliccare mi piace di inserire un commento e di iscrivervi al nostro canale ricordatevi di cliccare sulla campanella così riceverete le notifiche sui prossimi video grazie e arrivederci a 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